Sarà presentata domattina la nuova sede di Vallo della Lucania di Vivo Diabete, l'Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano. Gli obiettivi dell'incontro saranno far emergere i vissuti emotivi di ciascun partecipante, bisogni, paure, sentimenti, ansie, difficoltà di vita, conflitti, difese e motivazioni inconsce, utilizzando come cassa di risonanza, ossia come sfondo, il gruppo. Porre in luce la consapevolezza, attraverso la diagnosi della malattia, dell'importanza e della responsabilità del corpo umano e farne emergere i diversi atteggiamenti dei partecipanti nel vivere il proprio corpo malato, spesso non integrato alla mente e far emergere nella condivisione plenaria i conflitti, le varie difficoltà ed ostacoli incontrati nel processo graduale di adattamento al diabete, per poi nella fase finale dell'intervento stesso fornire a ciascun partecipante, attraverso un colloquio psicologico individuale, un profilo personologico relativo al proprio grado di accettazione della malattia. Porre inoltre in luce il ruolo e la funzione preziosa del diabetologo e dell'educatore terapeutico nella gestione delle malattie e pertanto la rilevanza dell'adesione del paziente al trattamento, far emergere la rilevanza della funzione della consulenza come sostegno dell'autoefficacia del paziente diabetico, fornire le conoscenze teoriche relative alla capacità trasversale, essenziale per eseguire l'obiettivo formativo a lungo termine, ossia l'apprendimento della padronanza e del controllo e la gestione della malattia cronica. L'appuntamento quindi è fissato per domani, 21 maggio, alle ore 10.30, presso il Palazzo della Cultura.